Questo è un progetto, cioè quello delle ciclovie lungo le valli, cioè che partono dalla costa per andare verso l'entroterra, che abbiamo finanziato e ideato nel 2017. Nel 2018 sono arrivate le risorse, come Regione Marche abbiamo avviato il confronto con i comuni per definire quello che era il percorso che doveva essere fatto, poi abbiamo appunto attivato la progettazione. Nel 2020 c'è stato il cambio di governo regionale, avevamo lasciato i progetti di fattibilità pronti, con le risorse pronte, oggi siamo a febbraio del 2023, ancora la Regione Marche non ha definito nei progetti, non è partita con le gare. Mi riferisco in particolar modo al tratto di pista ciclabile lungo la vallata del Foglia, cioè quello che parte da Pesero nella zona del Galopatoio, che doveva, che deve arrivare fino a Valle Foglia, fino a Montecchio, questo è il primo stralcio, mentre il secondo stralcio parte da Valle Foglia, quindi Montecchio, fino a Borgo Massano di Monte Calvi in Foglia. Mentre il secondo stralcio, cioè quello da Valle Foglia a Borgo Massano, i lavori sono già partiti, per quanto riguarda invece il primo lotto, il primo stralcio che va dal Galopatoio, passa per Borgo Santa Maria, per arrivare fino a Montecchio, ancora ad oggi non è stato definito il progetto, sono trascorsi tre anni, ho presentato la terza interrogazione perché voglio sapere come mai a tutt'oggi questo intervento non è partito. Nell'ultima interrogazione che avevo fatto mi era stato garantito che entro metà del 2023, quindi quasi ormai un anno fa, i lavori sarebbero partiti. Ho aspettato già anche troppi mesi e quindi ho ripresentato un'altra interrogazione perché ritengo che sollecitare questo intervento sia un obbligo per chi come me rappresenta questo territorio.